ciao a tutti anche oggi continuiamo con l'esplorazione delle proprietà degli shape layer e in particolare vedremo come si possono raggruppare oppure fondere insieme più forme all'interno di uno shape layer benissimo cominciamo a creare un gruppo di forme all'interno di uno shape layer prendiamo lo strumento rettangolo e disegno un rettangolo in questa zona qui poi disegno una seconda forma e questa volta magari prendo la forma ellisse e l'aggiungo in questa zona qui poi prendo un poligono giusto per fare delle forme diverse e quindi a questo punto prendiamo anche l'ultima forma disponibile cioè la stella e aggiungiamo anche una stella quindi all'interno di uno shape layer ho quattro forme benissimo se io per esempio volessi gestire contemporaneamente il rettangolo e l'ellisse come fosse un'unica forma potrei raggrupparli e come si fa si selezionano qui all'interno dello shape layer quindi seleziono il rettangolo poi shift l'ellisse e per raggrupparle posso farlo in due modi il metodo più semplice e diretto è quello di usare una scorciatoia la tastiera e cioè tenere premuto il tasto control o command per i mac e g quindi control più g come vedete adesso al posto delle due forme c'è un contenitore che si ma gruppo 1 se io lo apro al suo interno ci sono ancora l'ellisse e il rettangolo e adesso se prendo lo strumento selezione e seleziono il gruppo 1 posso spostare contemporaneamente tutte e due le forme posso ridimensionarle come se fossero un oggetto unico posso anche ad esempio ruotarle insomma le posso gestire come fossero un'unica forma appunto perché le ho raggruppate contemporaneamente posso sempre gestirle singolarmente se per esempio volessi ridimensionare soltanto il rettangolo basta che seleziono qui nella timeline rettangolo 1 a questo punto io sposto soltanto rettangolo 1 lo riscalo lo ruoto eccetera quindi posso gestire il gruppo delle due forme oppure singolarmente le forme questo è il metodo più semplice e diretto cioè seleziono le forme e con la scorciatoia control g le raggruppo l'altro metodo lo applichiamo invece alle altre due forme e si fa così seleziono il contenitore delle forme contents vado a destra nel menu add e scelgo la voce gruppa a questo punto si aggiunge un contenitore gruppo 2 però in questo caso devo io spostare a mano le due forme il pentagono e la stella dentro il gruppo 2 cioè seleziono la stella il pentagono e li trascino sopra il contenitore gruppo 2 e a questo punto fanno parte del gruppo 2 e se lo seleziono posso spostare contemporaneamente il poligono e la stella però come avete visto questo secondo metodo è più lungo quindi si preferisce sempre selezionare gli oggetti e poi usare la scorciatoia tastiera control g benissimo adesso vediamo invece come si fondono insieme le forme e per fare questo eliminiamo tutto lo shape layer quindi lo seleziono lo elimino e di nuovo disegno un rettangolo e un altro ellisse e in questo caso li disegno anche in modo tale che l'ellisse si sovrapponga un poco al rettangolo benissimo adesso per fare una fusione fra le due forme procedo così seleziono contents vado a destra nel menu add scelgo la voce merge paths vediamo cosa succede succede che dopo le due forme si aggiunge questa proprietà che mi permette di fondere le due forme e infatti la situazione adesso è cambiata non vedo più il rettangolo e l'ellisse ma vedo la fusione delle due forme tanto è vero che c'è un unico riempimento e un unico bordo che racchiude l'unione delle due forme infatti subito dopo l'operatore merge paths nella timeline c'è un nuovo stroke e un nuovo fill benissimo vediamo quale tipo di operazioni io posso fare sulle due forme apriamo il contenitore di merge paths e dentro c'è un parametro mode che al momento è impostato con la voce add cioè io vedo l'unione delle due forme se invece da questo menu a tendina scelgo ad esempio subtract vedete che adesso il risultato finale è l'ellisse meno il rettangolo e perché l'ellisse prima perché l'ellisse è la forma che sta più in alto nella lista delle forme qui all'interno di contents se io invertissi la posizione delle due forme all'interno della lista delle forme cioè prendo il rettangolo e lo sposto prima dell'ellisse come vedete adesso il risultato finale cambia è il rettangolo meno l'ellisse e infatti è questo che io vedo benissimo quindi in caso di sottrazione è importante l'ordine delle due forme procediamo a vedere le altre possibilità combinatorie al posto di subtract questa volta attiviamo intersect il risultato finale in questo caso è all'intersezione delle due forme quindi questo angolo qui in questo caso se invece scelgo l'ultima voce che è exclude intersection ottengo l'opposto dell'intersezione quindi ciò che appartiene alle due forme ma non ciò che appartiene contemporaneamente a tutte e due e poi rimane l'ultima possibilità che è la prima voce che emerge che è simile all'add la differenza è minima e cioè io vedo l'unione delle due forme tutte e due ma contemporaneamente vedo anche tutte e due gli stroke come vedete vedo sia il contorno del rettangolo sia il contorno dell'ellisse mentre se scelgo di nuovo la voce add come era all'inizio vedo l'unione delle forme e il contorno sta sull'unione delle forme benissimo e se io sposto le forme vedete che comunque la combinazione persiste stessa cosa vale anche per sottrazione in questo caso rettangolo meno ellisse dove io vado a mettere l'ellisse lì sottrae al rettangolo benissimo prima di proseguire come nel caso della proprietà trim paths voglio farvi notare una cosa che bisogna stare attenti a come si aggiunge la proprietà merge path e cioè la elimino di nuovo seleziono la proprietà merge path il suo stroke il suo fill e li elimino quindi di nuovo torno ad avere le due forme indipendenti prima io ho aggiunto la proprietà merge evidenziando prima il contenitore generale delle forme e poi aggiungendo la proprietà merge e in questo caso vedete che merge si aggiunge dopo le forme ma adesso di nuovo faccio un passo indietro se invece avessi per esempio selezionato il rettangolo e a questo punto avessi aggiunto la proprietà merge path notate che questa proprietà merge path sia infilata all'interno del contenitore di rettangolo 1 quindi funziona soltanto sulla forma rettangolo e basta e quindi non fa l'unione con l'ellisse quindi bisogna stare attenti a quando si aggiunge questa proprietà ma anche altre proprietà che non sia selezionata una forma quindi torno di nuovo indietro ma bisogna selezionare il contenitore di tutte le forme cioè contents e poi aggiungere la proprietà in questo caso la proprietà che mi interessa è merge path quindi il merge path in questo caso si aggiunge dopo le forme e se io scelgo un operatore questo operatore agisce contemporaneamente su tutte le forme che vengono prima benissimo adesso proviamo applicare questo merge path a un caso particolare quindi di nuovo elimino lo shape layer e creo un piccolo quadrato quindi prendo lo strumento rettangolo disegno il rettangolo tengo premuto il tasto shift in modo tale da avere un quadrato su questo quadrato faccio un animazione sulla sua scala quindi apro il contenitore rettangolo entro nella sezione transform del rettangolo quindi apro transform rettangolo e lavoro sulla proprietà scala voglio che al tempo 0 il rettangolo sia grande 0 quindi assegno il valore 0 al tempo 0 e accendo l'orologio di scale e dopo facciamo mezzo secondo ingrandisco il quadrato benissimo e come potete vedere si allarga dal centro benissimo adesso chiudo il contenitore di rettangolo 1 lo seleziono e lo duplico in modo da avere due copie identiche del quadrato con la stessa animazione quindi seleziono ctrl d scorciatoia per duplicare e ho due quadrati benissimo dopo questi due quadrati aggiungo la proprietà merge path per fare una fusione fra i due quindi seleziono contents come ho detto prima e poi dal menu add riaggiungo la proprietà merge path apro il contenitore di merge path e come al solito in partenza io vedo la somma delle due forme ma in questo caso particolare io vorrei fare una sottrazione fra le due forme quindi imposto il tipo di fusione su subtract a questo punto non vedo più nulla perché le forme sono identiche quindi quadrato meno se stesso non mi rimane niente ma se io ritardo l'animazione del secondo quadrato le cose cambieranno e per fare ciò devo ritardare la seconda copia di keyframe quindi seleziono il livello clicco il tasto U che è la scorciatoia per far apparire tutti i keyframe del livello e questa copia di keyframe che è l'animazione sulla scala del secondo quadrato la ritardo di qualche fotogramma quindi la sposto avanti nella timeline più o meno così quindi adesso io se vado a rivedere l'animazione vedrò il primo quadrato che si allarga e dopo un attimo il secondo quadrato che andrà a sottrarre al primo e alla fine non mi rimane di nuovo nulla benissimo magari in questo caso possiamo anche fare a meno del bordo nero sulla fusione delle due forme per cui riapro di nuovo il contenitore dello shape layer e spengo la proprietà stroke del merge questa qui quella che sta dopo il merge path quindi spengo l'occhiolino di questo stroke e mi rimane soltanto il fill rivediamo di nuovo il tutto come vedete ho una piccola animazione che posso ottenere facilmente grazie alla proprietà di sottrazione fra le forme benissimo a questo punto se volessi gestire più comodamente questo gruppo di due elementi con il merge path potrei raggruppare tutti questi elementi cioè selezionare i due rettangoli il merge e lo stroke e il fill e con il ctrl g raggrupparli in un unico contenitore in modo da poter gestire questa unione rapidamente poterla spostare da un'altra parte poterla riscalare rapidamente eventualmente ruotarla eccetera eccetera benissimo e se volessi un'altra copia di questo nuovo elemento potrei duplicare il gruppo quindi lo seleziono ctrl d e avere due quadrati il secondo per esempio questo potrei ricolorarlo seleziono il fill del secondo e gli assegno un blu per esempio e se volessi potrei anche fare in modo che l'animazione avvenga più in ritardo quindi clicco il tasto u evidenzio i keyframe e questi quattro keyframe che appartengono al secondo elemento li ritardo tutti e potrei quindi avere due animazioni simili ma ritardate tutto all'interno dello stesso shape layer grazie all'operatore merge e al contenitore group benissimo quindi anche per oggi ci fermiamo qui e continuiamo alla prossima ciao ciao